La sua passione di una vita è il calcio, è una vecchia gloria del Cattolico Eraclea e di Ribera, fa il vigile urbana da Grigento, vive a Cattolico Eraclea, è sposato e padre di due figli. È Edoardo avanzato, tifoso della Juve ma il suo cuore batte per l'Era Clea, la squadra di cui è mister presidente. Con il suo impegno e la sua tenacia è riuscito a far rinascere il calcio a Cattolico Eraclea per la gioia dei tifosi e per lui parla la tribuna sempre piena. Allena i ragazzi del vivaio giovanile e anche quelli dell'Era Clea che quest'anno lo stanno riempiendo di soddisfazioni, viaggiando in testa alla classifica del campionato di terza categoria. Il mister avanzato ama lasciare liberi i suoi giocatori di talento, Urreri forse il suo preferito, Stagno Catania di capo, da qualsiasi compito di marcatura, è per la fantasia il genio. Il mister avanzato, cresciuto nella scuola dell'allenatore storico delle squadre cattolicesi, Tutino, intrattiene un ottimo rapporto con i singoli giocatori, li fa sentire importanti e allo stesso tempo li responsabilizza. Se c'è un problema ne parla immediatamente nello spoglietoio, lasciando spesso la parola ai giocatori per un confronto al fine di arrivare ad una soluzione congiunta. Questo è il mister avanzato, l'uomo che ha fatto rinascere il calcio a Cattolico Eraclea. A lui e all'Era Clea i migliori auguri.